Arriva il G7 qui a Trieste, una parola appunto su questo importante appuntamento. Sì, abbiamo in realtà il G7, la settimana successiva abbiamo la settimana sociale della CEI con il Santo Padre, con il Presidente della Repubblica che arriveranno. Questa settimana appunto i Ministri G7, un evento ovviamente di importanza internazionale, penso poi che sia tra i più importanti G7 tematici, perché l'istruzione, la formazione è la sfida del futuro, cioè la parte della formazione rispetto anche alle nuove tecnologie che sono a disposizione, la carenza, pensiamo nei Paesi G7 in Europa che ci sono di personale, è una delle grandi sfide per lo sviluppo mondiale e globale. Quindi penso che veramente avrà una grande attenzione e avremo necessità di creare delle strade condivise per affrontare le sfide e tramontarle in opportunità.